Grazie a tutti. La tempestività con il quale è intervenuto. Esprimo soddisfazione per i provvedimenti assunti, le nuove norme di sicurezza, sia per i provvedimenti con effetto immediato, sia per quelli con effetto di natura programmatica e ordinamentale. Ritengo che sarebbe un errore non ripartire. Sarebbe un errore non raccogliere, sia pur partendo da fatti tragici, la spinta positiva scaturita in questi giorni di grandi riflessioni, approfondimenti, di profonda presa di coscienza, del livello di criticità che avevamo ormai raggiunto. Non si può adesso cedere ai violenti. La risposta deve essere una e una sola di tutto il mondo del calcio. E' per questo motivo che la federazione decide di far ripartire il campionato, il calcio professionistico di serie A, B e C, a partire dal prossimo fine settimana. Ovviamente nel pieno e totale rispetto dei contenuti del decreto legge.